Che cos'è e come funziona una pompa di calore? Una pompa di calore non è altro che un gruppo frigorifero che può funzionare con l'inversione di ciclo, ovvero può fare caldo o freddo. Cosa significa? Sappiamo tutti che un gruppo frigorifero nasce fondamentalmente per raffreddare. Diciamo che l'effetto di raffreddamento è dovuto al fatto che si asporta energia, quindi si asporta calore. Quindi un refrigeratore come funziona? C'è uno scambiatore freddo, detto evaporatore, dove evapora il gas frigorigeno ed evaporando assorbe energia dall'ambiente, dal liquido, dal fluido che dobbiamo raffreddare. Questo gas poi cede questa energia, questo calore che ha acquisito dal fluido nel condensatore, quindi verso l'ambiente. Tutti quanti se andiamo nel nostro frigorifero di casa a toccare la parte posteriore dove c'è quella specie di batteria allettata, quella retina nera, chiamiamola così, sentiremo caldo. Quello è il caldo che il frigorifero ha asportato dall'interno. La pompa di calore che cos'è? Non è altro che un frigorifero, un refrigeratore, un condizionatore che d'estate funziona in un modo, durante l'inverno c'è una valvola chiamata valvola di inversione di ciclo che scambia i due scambiatori, scusatemi il gioco di parole. In sostanza quello che era lo scambiatore freddo che asportava il calore dall'interno del locale diventa lo scambiatore caldo. Quindi cosa fa? C'è questa valvola che inverte il ciclo, il gas prende, diciamo così, l'energia dall'esterno e la cede verso l'interno. Quindi quello che era l'evaporatore, lo scambiatore freddo durante l'estate e asportava il calore dal locale interno o dal fluido, in questo caso cede calore e lo riscalda, asportando energia dall'ambiente esterno. Tanto è vero che durante la stagione invernale noi ci accorgeremo che quello che d'estate è lo scambiatore caldo e che quindi cede all'ambiente aria calda, in quel caso cederà all'ambiente aria fredda, sentiremo dell'aria fredda. Ovviamente le pompe di calore hanno dei limiti di funzionamento, perché? Perché durante la stagione invernale essendo l'ambiente molto freddo e magari umido, lo scambiatore esterno molto spesso si trasforma in un blocco di ghiaccio. Noi potremmo vedere delle pompe di calore in funzione durante il periodo invernale che presentano lo scambiatore esterno completamente ghiacciato. Cosa avviene? Avviene quello che viene chiamato in gergo il ciclo di sbrinamento, ovvero si inverte per qualche minuto il ciclo e si fa passare il gas caldo nello scambiatore esterno in modo da sciogliere il ghiaccio fino a ripristinarne l'efficienza e poi la pompa di calore riparte in funzione invernale producendo ancora caldo. Quando arriva la stagione estiva, di solito si switcha un interruttore, si cambia l'interruttore estate-inverno e il gruppo frigorifero torna a lavorare come un normale gruppo frigorifero, quindi asportando il calore dal locale interno e quindi raffrescandolo, condizionandolo o raffrendando il fluido che passa all'interno dello scambiatore freddo e cedendo il calore all'esterno sul condensatore quindi come aria calda. Questa è una pompa di calore in sostanza. Cosa ve ne pare? È interessante come argomento, vero?